un barile di grog che è una trappola per il tarco non vedi il prigioniero ha creato un diversivo perché usi i tuoi occhi per cercare l'uruk io vedo meglio di ogni mortale uccidi il capitano recidi la testa del serpente e il suo corpo si spegnerà arcieri devo accecare l'accampamento avete mica visto quel fantasma che ci sta spiando il capo perde tempo a escogitare piani invece di lasciare che lo catturiamo noi ho trovato delle orme strane di nuovo le hanno fatte gli schiavi trascinando i piedi le ho viste anch'io ho sentito lo schiavo implorare di farlo i pregava di risparmio qualunque messia sia scappa un uomo anche solo per zittire voi glob erano tutti dei buoni guerrieri uno di loro era un berserker non un guerriero chiunque tenti di scappare morirà di fame sul palo non crediate di poterci sfuggire perché vi punirò di persona cos'è stato? siate troppo smidollati per sfuggire a un uruk vedete quegli schiavi? hanno cercato di scappare cos'è stato? e ora moriranno legati al palo lo stesso destino attende voi troppo lento verve verve è un peccato ucciderti saresti un ottimo schiavo eeeh 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 decapitatelo decapitatelo non fatelo rialzare non fatelo rialzare non fatelo rialzare vieni qui fatelo a pezzi non fatelo rialzare ne vieni non fatelo non fatelo non fatelo non fatelo Come hanno fatto gli occhi a domare Ikaragor? Solo gli occhi più forti possono farlo. Spesso danno quelli più deboli in pasto ai loro nuovi animali. Questi occhi sono pazzi o? Ma che crudele!